Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. 17 febbraio, buongiorno, anche la settimana di carnevale di San Valentino è archiviata. Oggi è sabato e per onorare il weekend che comincia abbiamo scelto per voi solo notizie che non riguardano la politica. Una volta tanto si può fare. Comincio quindi con un bell'articolo del Belga de Standard su un autentico pezzo d'Italia che sta scomparendo, ovvero le edicole. Le edicole, anche se forse tanti di noi che viaggiano poco non l'hanno messo a fuoco, sono un'altra delle tradizioni legate al nostro paese. Non esistono da nessun'altra parte del mondo. Nel senso dei chioschi, voglio dire, che vendono giornale agli angoli delle strade, sui marciapiedi, nelle piazze e negli altri paesi. Sono negozi, come tutti gli altri, dove entri per comprare i giornali. Per gli italiani, scrive The Standard, l'edicola è un luogo di incontro quotidiano, molto di più di una semplice rivendita di giornali. E causa l'abbandono della carta stampata. A favore delle testate digitali, le edicole sono una tradizione che si sta spegnendo. Negli ultimi quattro anni ne sono state chiuse 2700. Chi raggiunge l'età della pensione chiude, non vale più la pena nemmeno di cederla a un figlio, perché non apre un futuro. Spesso, prima di chiudere, spiega l'articolo, si può provare a passare a una donna della famiglia, una casalinga che non lavora, magari qualcosa si porta a casa. E sarà forse per questo che oltre il 37% delle edicole sopravvissute ha una donna al timone, una percentuale che è significativamente superiore alla media delle imprese italiane gestite da donne. Ma sono anche le prime, poi, queste edicole, a chiudere. Fabio, un edicolante romano, racconta il giornalista belga che comprò la sua, che è ancora aperta, nel 2002 a 90.000 euro e ne paga 3.500 l'anno per l'occupazione del suolo pubblico. Ci sono poi la tassa sui rifiuti, 800 euro, la luce, tutte cose che sarebbero fattibili se il reddito fosse rimasto stabile. E invece anche il valore della licenza è precipitato. Oggi, se la vuole vendere, la può vendere al massimo per 30.000 euro. All'epoca, quando la comprò, valeva quanto un appartamento. E aggiunge sempre Fabio, il giornalaio, con le edicole perdiamo un vero centro di aggregazione e di controllo sociale. Io, dice lui, tutti i miei clienti li conosco. Spesso, addirittura, le persone mi lasciano le chiavi di casa che poi passa un altro a prendere. Dice ancora che un giorno una cliente abituale, affetta da Alzheimer, si era persa e fu lui a riconoscerla e a chiamare il figlio. Durante la pandemia, racconta ancora, rimanemmo aperti ed eravamo noi a portare i giornali a casa di coloro che non ne potevano uscire. americani in Italia. Ieri parlavamo di Patrick che ha raccontato a Business Insider in modo inconsueto in cui ha imparato a parlare l'italiano. Oggi è la CNN che ci racconta la storia di Joshua Shapiro, l'americano che ha comprato casa in Italia e dentro ci ha trovato letteralmente grandi sorprese. State a sentire. Allora, Mr. Shapiro da Chicago è un sassofonista quarantottenne che dopo l'elezione di Trump e la svolta destra negli Stati Uniti ha deciso di abbandonare l'America per darsi alla dolce vita. Mica quella di Via Veneto però. Lui cercava un posto isolato, fuori dal mondo e dai collegamenti e l'ha trovato all'Atronico, provincia di Potenza. Cinque ore di macchina da Roma, tre dall'aeroporto di Bari e senza treno. Meglio di così. Nel 2022 trovò un appartamento a 22.000 euro dopo aver letto uno dei tanti articoli sui progetti di ripopolazione dei comuni del sud abbandonato. Lo metterò a posto e che ci vorrà, si disse. Oltretutto, l'accoglienza che gli abitanti gli riservarono durante il sopralluogo, complice anche il suo sassofono, lo affascinò. Poi suo nonno era stato di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, tutto giocava a favore. L'appartamento è al secondo piano con scala esterna e indipendente. 80 metri quadri, due camere da letto, un bel balcone. Per la ristrutturazione, si disse, 10.000 euro mi basteranno. Senza fare i conti che, a differenza degli Stati Uniti, l'appartamento non gli veniva consegnato con i mobili che aveva visto. Avrebbero dovuto mettere una clausola diversa. Insomma, lui pensava che glielo dessero con i mobili. E qualcosa, dice, glielo lasciarono, un letto completamente sfondato e un tavolo da cucina che era solo da buttare, oltre a un cumulo di spazzatura che dovette buttare lui, ma questo è un altro film. e solo dopo, dice ancora, scoprì che il tetto era da rifare, le piastituire e qualche buco nel muro da chiudere. Lui si era detto tanto qui ci abitano già, se ci vivono la casa sarà abitabile, senza considerare però che gli italiani sono molto adattabili. Ma la sorpresa delle sorprese non si era ancora palesata. I precedenti proprietari, andandosene, avevano lasciato in casa tre inquiline cui avevano subaffittato una stanza, tre suore cui non avevano detto nulla e delle quali non avevano parlato all'acquirente e che sulle prime non volevano nemmeno lasciare questo sconosciuto che era un uomo. Un uomo non poteva entrare nella casa dove abitavano loro. Dice poi che alla fine il comune ha risolto il quiproquo e che lui ancora oggi ci abita con grande felicità. Era scappato perché con Trump l'America stava andando a destra. Non so se gli abbiano chiesto come veda l'Italia di oggi. Cambiando argomento ecco perché l'Italia è la destinazione perfetta per chi viaggia in solitaria. Lo spiega Forbes siamo sempre su una rivista americana. Dai tortuosi vicoletti della Toscana alle rovine di Roma antica dalle vette delle Alpi al mare del sud l'Italia risponde alle aspettative di ogni viaggiatore e la presenza di tanti aeroporti internazionali rende un'esperienza di viaggio molto semplice anche per chi viaggia in solitaria. Per prima cosa perché e qui vi prego di non ridere il giornalista racconta che noi disponiamo di un letteralmente fantastico sistema di trasporto pubblico. Poi ci pensi e dici vabbè loro si muovono soprattutto con l'alta velocità quella funziona davvero non fanno la vita dei pendolari. Oltre a questo e qui possiamo essere più d'accordo l'ambiente è sicuro e ospitale niente a che vedere con la maggioranza degli altri paesi di provenienza extra europei. Il tasso di criminalità italiano è molto più basso di quello degli Stati Uniti dove il numero delle denunce è di 5 volte superiore. Certo questo non significa che i valori non vadano a protetti i documenti le carte e il denaro ben assicuro in un marsupio o in qualcosa del genere. In Italia poi continua l'articolo di Forbes ci sono grandi opportunità di fare amicizia con altri turisti in solitaria ogni destinazione è attrezzata di gruppi organizzati che vengono creati sul luogo per visitare i monumenti per le gite di un giorno e incontrarsi diventa molto semplice. La lingua non è un ostacolo insormontabile benché solo un terzo degli italiani spiccichi qualche parola di inglese alla fine ci si capisce sempre. Loro cioè noi siamo specialisti nel capirsi a gesti la parte migliore del viaggiare da soli in Italia puoi mangiare tutto il gelato la pasta la pizza che vuoi senza doverli condividere parola di Forbes ancora due flash in questo ristretto italiano versione weekend la lingua italiana il suo suono sono oggi considerati i più sexy del mondo come aveva già scoperto Jamie Lee Curtis nel pesce di nome Wanda per la quale tre parole in italiano erano il migliore dei preliminari a un incontro d'amore insomma quando la fantasia diventa realtà scrive la rivista turca Politi Yol che da un sondaggio della piattaforma linguistica Babel l'italiano dopo sette anni ha scalzato il francese la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che l'italiano ha l'accento più sexy e romantico di tutti come lingua più educata è stato scelto l'inglese mentre il tedesco è stato scelto come lingua più diretta la ricerca ha esaminato anche gli approcci fra coppie che parlano lingue diverse musica per chiudere il barometro di ESC 2024 il sito dell'Eurovision Song Contest l'Eurofestival ci dice ci dice che l'Italia con Angelina Mango tra le canzoni presentate fino a ora è in una posizione ottima nelle previsioni per Malmo a maggio il sistema funziona che mano a mano che i paesi aderenti scelgono i loro candidati il sito aggiunge il pezzo per l'ascolto e lo fa esaminare ai propri followers i quali esprimono le loro valutazioni su una scala da 1 a 5 da completamente eccellente a completamente terribile la canzone viene lasciata aperta ai giudizi per tre giorni di modo che non si avvantaggino quelli che erano arrivati per primi e l'esame viene ripetuto solo di fronte a variazioni sostanziali ad esempio se l'artista cambia il pezzo scelto o se viene profondamente modificato tutto questo per dire che Angelina Mango con la noia è arrivata seconda solo dietro l'Ucraina che guida con Teresa e Marie e sembra che sia una canzone molto bella molte altre canzoni dovranno arrivare ma questo allora questo ad ora è lo stato dell'arte qui mi fermo forza Angelina Mango facciamoci un buon weekend ci ritroviamo qui lunedì ristretto italiano di Ruggero Po un buon